Non aspettare l'estate. Il corpo peggiora se non fai nulla. Bisogna ricordarsi di non prendersi cura del proprio corpo solo a ridosso dell'estate, ma piuttosto riuscire a combattere gli inestetismi e restare in forma e un impegno su cui si deve lavorare quotidianamente, 365 giorni l'anno. Se anche tu appartieni alla prima categoria e hai paura di aver trascurato la cura del tuo corpo, non disperare, non è mai troppo tardi per liberarti delle cattive abitudini. Ciao, sono Pamela Scribano e sono ideatrice del metodo Rimodelle Terdomi e Fianchi, dove garantisco una taglia in sole 4 settimane. Il tutto in maniera naturale, senza ricorrere a trattamenti invasivi. Inoltre, la mia forza è la consulenza specialistica, dove ci consente di creare un programma cucito su misura per te. In concreto, che cosa puoi fare per iniziare finalmente a prenderti cura della tua bellezza? Cura la tua alimentazione, preferisci frutta e verdura a farine raffinate, dolci e cibi pronti. Tuttavia, ricordati che seguire una dieta corretta ed equilibrata può aiutarti solo a prevenire eventuali inestetismi. Non può fare miracoli. Infatti, l'alimentazione non elimina la cellulite, l'alimentazione non elimina il grasso localizzato. Ricomincia da te. Ricomincia a prenderti cura di te stessa e a dedicarti del tempo. Da oltre 35 anni, il nostro obiettivo è quello di aiutare tantissime donne a ritrovare l'armonia con se stesse e con le proprie forme. Grazie a risultati visibili e duraturi nel tempo, anche tu riuscirai finalmente a fare pace con lo specchio ed a tenere delle gambe toniche, sane e belle. Il primo passo per entrare nel nostro metro è chiamato Rimodellati. Una vera e propria seduta di sblocco corporeo. È studiato per essere il primo trattamento nel tuo personale percorso di bellezza e per darti da subito risultati visibili, quali sblocco del corpo, addome sgonfio, gambe compatte. Il primo incontro del metodo Rimodellati ha un valore di 2,60 e rivale in tutti, ma ho deciso di farti una super promozione. Riceverai la consulenza specialistica, trattamento Rimodellati e trattamento viso regina ad un prezzo unico di 97 euro. Attenzione, per seguire i miei clienti posso dare spazio solo a 5 nuovi clienti al mese. Per cui se desideri tornare in forma, clicca sul link in basso, lascia i prezzati, saremo noi a richiamarti entro le 24 ore.